In un primo momento in Viale Scalabrini tutti hanno temuto che si trattasse del ladro ninja, ma dai controlli dei carabinieri è emerso che a colpire non era stato il ladro seriale di Colceresa. Il malvivente è entrato nel giardino di un'abitazione, ma è stato disturbato dall'allarme dell'auto del proprietario che si è azionato. La sirena ha richiamato l'attenzione dei residenti e così il ladro è stato costretto alla fuga a mani vuote.